Mi sa che è arrivato il momento delle premiazioni e volevo invitare qui, prego, uno, prego due, prego tre, certo, sarete voi a premiare la prima, la seconda e la terza classificata. Dove sono i premi? Arrivano, arrivano, lui sempre ritardatario. Lui è ad agio, come la canzone, fa tutto con calma. Sì, bellissima. La facciamo adesso? La facciamo prima o dopo, per concludere? La facciamo dopo per concludere in bellezza, essendo bellissima. Allora, Kikogoshi, proprio lei premierà la terza classificata. Ah, benissimo, ok. Allora, la terza classificata della seconda selezione del Festival dell'Etna è Maria Cristina Litrico. Litrico, scusatemi, scusami Maria Cristina. Prego. Mi hanno nascosto, mi hanno esclusa. No, muoviti sempre. Vuol dire che sei emozionato. Però vi ho trasmasso in mano delle emozioni. Sicuramente sì, se sei arrivata terza, evidentemente c'è un motivo. Grazie. Frances, tu premi la seconda classificata. Grazie. Grazie.